La Terra respira ancora, sì, ma è costretta a lottare per restare viva e lo fa in molti modi anche brutali. I suoi messaggi talvolta assumono forme drammaticamente chiare, alluvioni, esondazioni, incendi, anche se qualcuno finge di non capirli. La Terra lotta per la sua sopravvivenza e i terrestri, molti ma non tutti, la aiutano e la sostengono. Tra questi c'è anche il WWF che promuove diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, come per esempio Earth Hour, l'ora della Terra. L'obiettivo è fare crescere il numero di persone che, insieme, possano agire contro la crisi climatica e la perdita della biodiversità. Oggi, sabato 23 marzo, dalle 20.30 via alla diciottesima edizione dell'ora della Terra. Le luci si spengono in tanti luoghi simbolici del mondo e tutti sono invitati a regalare un'ora al pianeta. Non è ancora l'ora della Terra perché scatterà ufficialmente questa sera, però in realtà poi l'ora della Terra dovrebbe essere sempre. Oggi è una giornata particolare a cui il WWF tiene molto perché organizza diverse iniziative per sensibilizzare tutti su quanto sia utile darsi da fare per il bene della Terra, anche per esempio spegnendo una luce. C'è un gesto simbolico, quello di spegnere le luci dei principali monumenti delle strade, delle piazze di tutto il mondo, di tutti i paesi. L'anno scorso hanno aderito oltre 190 paesi. Chiaramente l'Italia è presente, a Roma ad esempio si spegnerà il Colosseo. Ma non è soltanto il gesto simbolico di spegnere queste luci, ci sono anche tanti atti di volontariato e di momenti di sensibilizzazione che ad esempio il WWF in Abruzzo organizzerà nei principali capoluoghi della nostra regione. Nelle città hanno aderito oltre 30 città, hanno aderito tutti i parchi nazionali, l'area marina protetta Torre del Cerrano, tante riserve, tanti centri di educazione all'ambiente. Il WWF poi farà delle attività con i ragazzi o anche con le persone che vogliono in qualche modo avvicinarsi a questo tema del cambiamento climatico, che è un tema che ci riguarda tutti, perché dobbiamo correre, dobbiamo effettivamente andare verso la transizione ecologica, altrimenti iniziamo a pagarne pesantemente le conseguenze. Le luci spente per un'ora, in quell'ora un cittadino comune che non sia un monumento o un'istituzione, cosa potrebbe fare? Intanto già il fatto di spegnere le luci e quindi contribuire, anche se in minima parte, a quello che è il risparmio energetico è importante. Poi quello è un momento anche di riflessione, nel senso che a volte noi attraverso dei gesti piccoli possiamo contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici, ad esempio utilizzando meno l'automobile, avendo anche un'attenzione particolare ad esempio a quello che mangiamo, perché sappiamo che mangiare molta carne ha degli impatti ambientali pesanti, quindi fare una scelta che è poi quella della nostra scelta della dieta mediterranea, quella che noi dovremmo seguire da sempre. E poi potranno partecipare le iniziative che sono sul nostro sito, ci sono dei concerti per la musica, l'attività per i ragazzi, alle cene a lume di candela, momenti anche di lettura di poesia, a una biciclettata nella riserva regionale del Borsacchio che è nell'occhio del ciclone in questo periodo e che noi continuiamo a difendere e su cui continuiamo a lavorare insieme alla guida del Borsacchio. Sono tante le iniziative che possono essere fatte, l'importante è lavorare tutti insieme per contrastare il cambiamento climatico.